Ciao. Grazie. La segreteria nazionale si incontrano, lo facciamo dopo la nascita del governo e quanto mai opportuno, credo che passato il momento importante della manovra di bilancio, questa giornata di oggi e di domani sia davvero fondamentale anche per rilanciare la nostra azione politica. È stato giusto organizzare questo seminario perché credo che siamo veramente all'inizio di una stagione.